E' così che comincia la grande avventura di Maki e Sara-Fa. Vieni qui! Mi appartieni! Non appartiene a nessuno. Le nostre strade si incroceranno di nuova. Oh, non credo ai miei occhi. Il pascià sarà felicissimo. Non potevate farmi il regalo più bello. Un regalo. Portiamo Sara-Fa in Francia. Ti odio. Vuoi bene a questa giraffa? Fammi venire con voi. Sei pazzo. Vuoi attraversare il Mediterraneo? E con una giraffa poi? L'idea era un po' folle, ma per liberare il proprio paese, il pascià d'Egitto voleva chiedere aiuto al re di Francia. Sara-Fa! La prima giraffa di Francia! E Sara-Fa doveva essere il regalo. Ci ridi a Sara-Fa! Un regalo? È un regalo? No! E Sara-Fa? Sara-Fa e io fuggiremo! E Sara-Fa!